E' martedì 9 aprile, buongiorno con la nostra edicola Rassegna Stampa per dare uno sguardo ai principali argomenti pubblicati quest'oggi dai quotidiani. Subito il Corriere della Sera, situazione internazionale, Gaza nuova proposta, USA su tregua e ostaggi, raid su Zaporiza, torna l'allarme nucleare. E' stata fissata una data per l'incursione a Rafai, il premier israeliano Netanyahu annuncia la prossima mossa per sconfiggere Hamas e da Washington arriva una nuova proposta su ostaggi e tregua nella striscia di Gaza. Nel conflitto in Ucraina, nuovi attacchi dei russi alla centrale di Zaporiza. Torna l'allarme nucleare, Mosca ribalta le carte, accusa Kiev di essere responsabile del raid. Quindi come possiamo osservare anche attraverso queste testimonianze, questi resoconti giornalistici, la situazione internazionale è ancora ben lontana da trovare una tregua, una pace che tutti si aspettano. Governo la prova dei conti, Giorgetti nessuna manovra aggiuntiva. Novità su donazioni e successioni. Il documento in Consiglio dei Ministri, il superbonus pesa per oltre 210 miliardi. Scontro con le opposizioni. C'è scontro politico, oggi l'esame al Consiglio dei Ministri, il ministro dell'economia Giorgetti garantisce non ci sarà nessuna manovra correttiva, rispetteremo gli obiettivi che ci siamo posti. Poi ancora il fenomeno, sole del tutto oscurato dal Pacifico agli Stati Uniti. Certo è un bel effetto spettacolare, qui osserviamo in Messico con il naso all'insù e occhiali speciali sul naso per ammirare lo spettacolo dell'eclissi totale del sole. Appuntamento quindi al buio in milioni per osservare l'eclissi. Vediamo il Corriere Fiorentino adesso. Ateneo 200 no al bando con Israele. Il documento a Senato e Consiglio di amministrazione abbiamo l'obbligo di prevenire complicità in un genocidio. Vediamo nel dettaglio, avviciniamo un attimo il titolo. Dopo Torino e normale di Pisa, anche a Firenze la richiesta dello stop a progetti di ricerca con possibili implicazioni di carattere bellico. Quindi, di fatto, lo osserviamo, 200 tra docenti ricercatori e dipendenti dell'Università di Firenze scrivono al Senato accademico e al CDA perché prendano posizione contro il bando di collaborazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele del Ministero degli Esteri, dove i progetti finanziabili, si legge ed è questo il motivo della polemica, possono avere un'applicazione militare oppure sono funzionali alle politiche di opposizione, di oppressione verso i palestinesi. A centro pagina, allarghiamo di nuovo il giornale, San Donnino via alla demolizione sorgerà un impianto green. Siamo in San Donnino, quindi vicino a Firenze. Nella fotografia osserviamo l'ex inceneritore, dove ieri sono stati, sono iniziati i lavori per la sua demolizione. È un impianto che risaliva agli anni Sessanta, al suo posto sorgerà un impianto green. Guarda dire attento anche all'equilibrio ambientale. Andiamo a leggere la cronaca di Arezzo della Nazione, la quale apre, facendo riferimento a un'operazione antidroga, in verità piuttosto complessa, droga tra fustini e succhi di frutta, sequestri da mezzo quintale di eroine e arresti. Il blitz era partito da qui tra catture e inseguimenti sui binari. È un'operazione piuttosto complessa, che è stata coordinata anche dai carabinieri di Perugia. Si riferisce a questo il nostro primo servizio. Vasta operazione antidroga dei carabinieri di Perugia, 24 sono gli arresti in carcere cittadini nigeriani e italiani, legati alla criminalità organizzata, coinvolte varie province, tra le quali anche Arezzo. Una vasta operazione antidroga condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Perugia ha portato all'arresto di 24 soggetti. L'operazione ha riguardato anche le province di Latina, Arezzo, Lucca, Pisa e Varese. Gli investigatori, dopo l'arresto di tre cittadini nigeriani eseguiti tra febbraio e marzo 2023 a Terontola e Sinalunga, sono riusciti a ricostruire una rete di connazionali residenti a Perugia e cittadini italiani, in grado di importare nel capoluogo Umbro notevoli quantità di stupefacente dal nord Europa. Il gruppo aveva base logistica in un'abitazione nel centro di Perugia e riforniva tramite push e rimercati di Toscana, Marche e Campania. Le indagini hanno accertato collegamenti tra l'Associazione Criminale di Matrice Nigeriana e la Criminalità Organizzata Campana, con particolare riferimento a un esponente del clan dei Casalesi. A quest'ultimo il provvedimento cautelare è stato notificato nel carcere di Santa Maria a Capovetere. Il giudice per le indagini di Perugia ha emesso per 10 indagati la misura della custodia in carcere, per 3 la misura degli arresti domiciliari presso le abitazioni di residenza e per altri 11 la misura dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria competente. Il traffico di stupefacente riconducibile agli arrestati ammonta 250 kg per un valore di mercato stimato in 15 milioni di euro. Eseguite anche perquisizioni domiciliari che hanno consentito di sequestrare in una delle abitazioni degli indagati 624 g di cocaina, 4,7 kg di marijuana e oltre 20 mila euro in contanti. Per tali fatti sono stati arrestati in flagranza di reato 5 nigeriani che sono stati deferiti alla Procura della Repubblica competente per territorio. Torniamo a leggere la cronaca di Arezzo della Nazione. Si parla di sicurezza soprattutto nella zona dei giardini porcinai, vale a dire vicini alla stazione. Fa da pacere, preso a coltellate, tentato omicidio e caccia all'uomo. E poi sempre con riferimento a questo fatto di cronaca ci sono anche le reazioni. Fate presto situazione drammatica, appello dei negozianti al comune. Vediamo nel dettaglio. Evito i giardini, mi conoscono bene gli agenti in borghese, è un segnale. Bastioni in stand-by, prima dei lavori, perché sappiamo che la zona sarà poi riqualificata con una serie di lavori pubblici. Si parla ancora di lavori pubblici in queste due pagine, possiamo osservare. Addio al semaforo di via Tarlati, Catona via ai lavori della rotatoria e Cesalpino verso la demolizione. Fiorentina via Fiorentina, sarà la volta buona? Sottoservizi verso la volata finale, poi avanti con rotatoria e sottopasso. Quindi, come possiamo osservare, entrambi i servizi, entrambi gli articoli si riferiscono, fanno un po' il punto dei lavori pubblici in alcune zone della città. Ancora Chianti Banca utile oltre i 36 milioni in nostro sostegno al territorio. Vediamo qui nel dettaglio. Qui osserviamo i componenti del CDA con il collegio sindacale. Presidente e direttore generale di Chianti Banca, l'istituto di credito continua a crescere e a sostenere lo sviluppo del territorio. Avanti il ricambio generazionale, stabilizzati 50 giovani a tempo indeterminato. Quindi ci sono delle prospettive anche sotto il profilo occupazionale. Qualche notizia dai territori, per esempio da Cavriglia. Il sindaco Sanni punta a fare il Tris con la mia squadra verso la sfida elettorale delle prossime amministrative. Il riferimento al servizio che abbiamo visto prima, stroncato maxigiro di droga, eroina nei fustini e nelle ruote a Terontola. I primi arresti, come detto è stata coinvolta anche la provincia di Arezzo, anche se l'aspetto conclusivo direi di questa indagine è stato condotto a Perugia. Madonna del parto senza pace, quindi siamo a Monterchi, nuova collocazione? Vedremo, andiamo a osservare il sommario sulla vicenda che riguarda il futuro dell'opera. Il sindaco di Monterchi Romanelli dice che il percorso non è iniziato. A maggio l'incontro al Ministero dove potrebbe essere presa una decisione definitiva attesa ormai da tutti ed è una decisione appunto che la comunità ormai si attende. Ci sono ovviamente anche riferimenti alla pagina sportiva e in particolare anche al pareggio ottenuto dall'Arezzo allo stadio Porta Elisa di Lucca, vediamo qui a fondopagina. L'Arezzo ripreso allo scadere pari a Lucca, Trombini para un rigore nel primo tempo, apre risaliti all'ottantottesimo con Ieboa il gol dei rossoneri, quindi finisce 1-1, pareggio sostanzialmente giusto, va detto, quello allo stadio Porta Elisa. Arezzo ripreso sul più bello, risaliti fa sognare il blitz e pari lucchese nel finale. Indiani soddisfatto, risultato giusto per quanto si è visto in campo. Prima di passare a leggere insieme il Corriere di Arezzo, vediamo il prossimo servizio di questa edicola rassegna stampa, perché è stata intitolata Lorenzo Cerofolini, la targa del campo da calcetto Ripa di Quarata, fischio d'inizio per il secondo Memorial nel nome del calciatore del Capolona Quarata. È stato scelto l'insegnamento che Lorenzo aveva tratto dal calcio come messaggio da riportare nella targa che lo ricorda, a pochi metri da quel campo da calcio sul quale aveva trascorso numerosi pomeriggi con gli amici. Nel giorno del suo compleanno è stata intitolata Lorenzo Cerofolini, atleta del Capolona Quarata, prematuramente scomparso all'età di 21 anni a causa di un incidente stradale, l'area verde è situata a Ripa di Quarata. La richiesta è stata fatta dalla società sportiva Capolona Quarata, che ha avuto questa idea, condividendola con me, di chiedere all'amministrazione di intitolare questo campo qui. L'amministrazione 448 ha detto sì, ha sposato la causa e ha reso felice questa comunità. Non è banale, non è scontato che il paese si stringa intorno a una famiglia quando poi purtroppo affronta il lutto del genere. Questa Quarata è successo, sta succedendo, non è la prima occasione di ricordo di Lorenzo e quindi l'amministrazione comunale ha fatto semplicemente il proprio dovere, quindi a secondare questa richiesta formalmente della società sportiva e della famiglia, ma di tutto il paese, ti ricordai Lorenzo. La svellatura della targa ha anticipato il fischio d'inizio del secondo Memorial Cerofolini. Non a caso ho scelto gli esordienti secondo anno perché hanno un'età che ancora non sono tra virgolette troppo contaminati dalla televisione o da atteggiamenti che sono fuorvianti per i ragazzi che già cominciano ad avere un'età superiore. Quindi è bellissimo vederli giocare con rispetto, con voglia, proprio con semplicità e con una libertà di mente che quando crescono purtroppo a molti va via. Le notizie di cronaca sono prevalenti nella pagina di apertura del Corriere di Arezzo. La prima fa riferimento anche al servizio che abbiamo visto prima, l'Aretino Piazza dello Spaccio. C'è questa fotografia che abbiamo riportato anche nel nostro contributo filmato che documenta l'entità di questa operazione, contestato il traffico internazionale di 250 chili di eroina con un profitto di 15 milioni di euro, lab dello smistamento in centro a Perugia, vale a dire un'abitazione che era stata presa in affitto e fungeva in pratica da base per lo spaccio. Ancora cronaca qui a fondo pagina, accoltellato ai giardini porcinaie caccia all'aggressore, quarantenne in prognosi riservata al San Donato, ferito anche un giovane intervenuto per riportare la calma nella zona. C'è anche questo aspetto che deve essere tenuto in particolare evidenza. E poi ancora qui di spalla, residenti in città il 13% è straniero, il 13% della popolazione aretina è straniero. Questa è la percentuale registrata dai dati demografici del Comune di Arezzo al 31 dicembre 2023. La popolazione complessiva, il numero complessivo dei residenti va leggermente diminuendo. Salviamo il ponte, cade i frati, si mobilita, i residenti lo demoliscono. D'estate serve creare un'alternativa. Vediamo qui questa fotografia che documenta appunto da vicino il ponte che sarà demolito soprattutto per motivi si legge legati alla sicurezza. Tutti a scuola dai campioni, Panatta, Lucchetta, Graziani e Castro Giovanni incontrano e giocano con gli studenti, appuntamento con questa iniziativa che è stata organizzata all'Arena Eden di Arezzo. Ancora la cronaca accoltellato ai giardini porcinai, abbiamo visto la notizia già anticipata in prima pagina. Il punto sulla situazione demografica ad Arezzo è straniero, il 13% degli aretini. Poi notizie dalla Toscana, notizie anche dall'Italia e dal mondo, riferimento anche all'operazione che abbiamo documentato con questa doppia indagine e molti chili di droga sequestrati. Qualche informazione dai territori, sindaco corre per la terza volta il sindaco di Cabriglia, Leonardo degli Innocenti e Sanni. Ci sono ancora molti progetti avviati da finire e appunto per questo il primo cittadino uscente si ricandida ancora per le elezioni. I cinque anni della giunta Meoni a Cortona, dalla cultura ai lavori pubblici, il punto di sindaco e assessori sul mandato amministrativo. Osserviamo in questa fotografia alcuni componenti della giunta Meoni che ieri appunto hanno voluto così illustrare gli interventi compiuti. Notizie anche dall'Alto Tevere, furto al centro servizi di Cervare, la polizia che sta indagando, latri in fuga con gratta e vinci, pacchetti di sigarette dal bar tabaccheria, messi a soquadro anche gli uffici e appunto per questo le indagini sono tuttora in corso. Vediamo altre notizie, ci sono riferimenti anche alle pagine dei lettori, poi ancora il calcio minore, a Montagnano sognare si può il calcio dilettantistico, settimo successo consecutivo, il presidente Menchetti, i playoff ci stiamo, ci siamo e ci pensiamo. Appunto per questo una realtà calcistica che in passato ha avuto anche dei momenti di grande soddisfazione, seguita come possiamo osservare da un pubblico numeroso, sta lavorando per un ulteriore rilancio perché qui osserviamo allo stadio di Alberoro quasi mille persone per il derby contro il Montagnano, la vittoria del calcio dilettanti. Calcio dilettanti che sappiamo deve affrontare numerose difficoltà e queste immagini in fondo riconciliano con questo calcio che comunque è sempre molto presente nel nostro territorio, nella nostra provincia. Possiamo concludere qui l'edicola rassegna stampa di questa mattina. Grazie quindi a tutti della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto con i nostri programmi.